E salve a tutti carissimi ascoltatori di Radio Pascuzzo, qui come sempre Mario che vi parla. Oggi siamo qui insieme in questa nuova video intervista e ho il piacere di intervistare un tiktoker. Lui è il pulmaro di tiktok e io lo ringrazio veramente di cuore per aver accettato il mio invito. Ciao caro! Buongiorno a tutti, sono il pulmaro di tiktok. Innanzitutto ringrazio Mario per l'invito e ringrazio tutti gli ascoltatori di Radio Pascuzzo. Bene, per iniziare a sciogliere un po' il ghiaccio, ti direi un po' di presentarti come faccio un po' in tutte le mie interviste. Spiegaci un po' chi è il pulmaro di tiktok. Mi chiamo Marco, ho 43 anni e abito in un piccolo paesino della provincia di Novara, a pochi chilometri da Arona al Lago Maggiore. Nella vita faccio il conducente di autobus, ho due figli Greta di 7 anni e Noa di 2 anni e mezzo. E niente, com'è nata l'idea del pulmaro? Il pulmaro è nato come penso per tantissimi di noi che si sono iscritti a tiktok nel periodo della pandemia. Nel periodo della pandemia siamo stati a casa un mese, un mese e mezzo e da lì è nato tutto. Io avevo già un profilo tiktok vecchio che adesso non l'ho più cancellato e ho deciso di creare il pulmaro. Il pulmaro dove racconta tutte le vicende, tutte le cose belle e brutte che accadono ad un autista di pulmaro nella routine di tutti i giorni. Ovviamente in chiave ironica, mai maleducato, mai scortese, però dove si raccontano effettivamente le vicende che accadono quotidianamente sul pulmaro di linea da Turia. A tal proposito vorrei chiederti, quali sono gli avvenimenti più curiosi che ti capitano durante le tue giornate da autista di pulmaro? Ecco, allora per quanto riguarda gli avvenimenti simpatici che accadono tutti i giorni potrei giusto raccontarvi un episodio che mi è successo la settimana scorsa. La corsa delle scuole, prima corsa scolastica, a Rona Intra, ultima corsa, vedo la gente che scende, però a un certo punto vedo una testa che spunta dal lato del sedile con delle cuffie. Allora vado a vedere, c'era sto ragazzo che dormiva con le cuffie alla musica alta, ci ho messo un attimo per svegliarlo. Altre volte in cui non mi sono accorto subito li ho svegliati direttamente in cappanone mentre facevo pulizia al pulmaro. Poi ci sono avvenimenti meno simpatici dove devi imparare a gestire la situazione perché comunque non sai chi c'è dall'altra parte, non conosci la persona, non conosci quale potrebbe essere la sua razione e quindi devi imparare a gestire appunto la situazione nel migliore dei modi possibili. Per quanto riguarda la mia ditta, fortunatamente non ci sono state aggressioni fisiche, però purtroppo aggressioni verbali ne capitano non tutti i giorni ma spesso e volentieri. E quindi anche lì per non far degenerare la situazione devi imparare a gestirtela e male che vada, comunque ci sono l'ultima spiaggia, devi chiamare le forze dell'ordine. La nostra intervista termina qua, io non posso che ringraziarvi per aver guardato o ascoltato la nostra intervista, vi rimando al nostro sito www.pascuzzo.eu dove troverete tutti quanti gli aggiornamenti che riguardano le nuove interviste oppure qualsivoglia novità e vi ringrazio ancora per l'ascolto e vi mando un grande abbraccio. Grazie a voi, ringrazio nuovamente Mario per l'invito e ringrazio tutti gli ascoltatori di Radio Pascuzzo. Buona giornata!